ciao ragazze benvenuti o bentornati a tutti nel canale oggi video in collaborazione con la mia carissima amica Sara ciao tesoro un bacio grande e con oggi si conclude il video cioè i nostri video dedicati alla skin care parlandovi delle maschere quelle che sono importanti in quest'ultimo periodo quelle che vi andiamo a consigliare ma state tranquille perché la nostra collaborazione continuerà e se abbiamo parlato in tutti questi mesi di skin care passeremo poi al make up quindi stay tuned allora sapete che è un argomento per me importantissimo e parliamo di skin care come sempre le maschere sono delle specialiste delle specialità e vanno sempre abbinate alla propria skin care sia per quanto riguarda la pulizia sia per quanto riguarda il rassodamento sia per quanto riguarda la luminosità in alcuni periodi dell'anno delle maschere sono più specifiche rispetto ad altre ma non per questo non siano importanti utilizzarne varie a seconda anche non solo della tipologia di pelle ma soprattutto per quello che voi veramente volete donare al vostro viso quindi che cosa significa che più voi fate maschere e più la vostra pelle non solo ne andrà a beneficiare ma i risultati saranno ancora maggiori durante la vostra skin care quindi sia come esfolianti ma allo stesso tempo come maschere sapete che nel cambio di stagione poi è deleterio proprio la tipologia del viso nel senso che la pelle mista ha bisogno di pulire ancora di più la pelle secca ha bisogno di nutrire ancora di più perché il cambio di stagione ovviamente accentua delle problematiche per poi andare a far normalizzare il nostro viso quindi con la mascherina poi la pelle non solo tende a disidratarsi non solo tende ad avere ad avere una maggiore un maggior diciamo nutrimento e quindi a dare un corretto nutrimento al viso ma bisogna essere anche perfettamente pulita e quindi levigata ed esfoliata e partirei proprio da questo concetto che è fondamentale la pulizia sapete che è importante già dal prodotto che voi andate a scegliere per la pulizia vi posso garantire che fa la differenza ma in questo caso io come maschere e con alcune non mi voglio dilungare già le conoscerete però voglio mostrarvi quelle che vado a consigliare veramente in questo periodo quelle che alcune non mi abbandoneranno mai e la prima in assoluto è questa di Sensai silky peeling mask è una maschera levigante esfoliante da risveglio della pelle si può utilizzare sia come lavaggio quotidiano quindi alternato ai vostri prodotti da giorno per la pulizia che tenerla in posa esattamente tre minuti sono delle maschere delle maschere smart delle maschere fast perché in solo tre minuti agisce e in tre minuti esplica la sua migliore funzione quindi si tiene in posa giusto tre minuti e poi si sciacqua io generalmente mi lavo il viso con questo prodotto ha dei micro granuli all'interno è una crema morbidissima ve l'ho fatta vedere tante volte quindi non mi dilungo perché è uno dei miei amori e va bene sia ad una pelle più asciutta che a una pelle mista grassa l'altro prodotto è una new entry di cui io sono letteralmente innamorata ed è la maschera all'argilla purificante della linea di Lancome questa maschera che io chi mi segue anche su instagram anzi mi raccomando mi trovate anche come Emanuela Rodriguez su instagram mi farebbe piacere se veniste a trovarmi anche lì e a seguirmi sono veramente molto attiva e sperimento tanti prodotti e vi mostro all'azione tanti prodotti questa è una maschera all'argilla e caolino è una maschera di pulizia soprattutto dei pori quindi livello poro lo 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 fa ovviamente lo mimetizza lo non lo fa sgranare con ovviamente il caldo prodotti che non adatti in questo cambio di stagione ed è una maschera che levica anche quindi vi rende il viso anche più compatto illumina si tiene in posa dai cinque minuti massimo dieci e poi sciacquate abbondantemente un altro prodotto veramente di velocità è sempre questa maschera della linea di clinique pep start che è una maschera fondamentalmente nasce per le millennial le millennial sono ragazze molto molto giovani che ovviamente richiedono dei prodotti pratici un po low cost perché questo è un medio prezzo e anche veloci quindi con questo voi lo applicate in posa durante due minuti scoppietta sul viso massaggiate sciacquate questa l'ho mostrata proprio due tre giorni fa su instagram e devo dire che ha avuto un grande successo perché pratica veloce comoda non costa molto ed è una maschera di pulizia profonda passerei ad un altro diciamo categoria di maschere che in questo momento è importantissima importantissimo utilizzare e sono le maschere di estrema luminosità la prima che mi piace moltissimo è questa della linea di eteria eteria un brand che mi piace moltissimo è una un brand che ovviamente non tratto nella mia celletta però ho modo di provarla questa mi è stata regalata e ho modo di provare tanti prodotti questa è la maschera che è conosciutissima quindi non mi dilungo ne ho parlato anche in uno dei miei preferiti di un po di tempo fa la lux enzimatic pill una maschera levigante di estrema luminosità che voi andate ad applicare e che poi massaggiate diventa un fluido molto leggero ha una bellissima fragranza ed è una maschera che vi compatta vi leviga come se voi faceste un filler mi piace perché sono maschere che non hanno bisogno di tanta posa nonostante sia scritta dai 5 ai 15 minuti l'importante è averla su 10 minuti io non sono per averla mezz'ora quando è scritto un quarto d'ora se quello è il tempo di posa dovete rispettare il tempo di posa perché quello è il massimo del suo utilizzo e la massima efficacia dopodiché diventa un fluido che si scioglie a contatto con l'acqua e vi lascia una pelle veramente splendida una new entry è questa sempre della linea che mi dimossa di madara mi è stata regalata da marea erena ciao tesoro un bacio veramente grande ed è una maschera che sempre dai 5 ai 10 minuti esfolia perché contiene acidi della frutta ed è una maschera a base di alfa idrossi acidi ed è una maschera che quando voi andate ad applicare a parte una fragranza di mela meravigliosa ma è una maschera che vi va a pizzicare perché l'effetto è un po' di pizzicore quindi io quando la applico dopo che la vado a sciacquare mi lascia una pelle ragazze liscia levigata e luminosa sicuramente per chi ha una pelle un po' reattiva non la consiglio però una pelle leggermente secca e sensibile perché no se non è reattiva se non dà problemi il diciamo il pizzicore è una maschera che dopo giusto 2-3 minuti non lo avvertite più ed è veramente non solo una new entry ma una maschera pratica comoda e veloce e neanche eccessivamente costosa subito dopo la maschera di luminosità che letteralmente amo è questa della mia di buckle ormai chi mi segue lo saprà io adoro buckle e questa è una maschera della linea even even è una linea che va a levigare ad esfoliare contiene acido glicolico in una percentuale molto bassa ma quello che ha è che oltre a donare una estrema compattezza va ad agire sulle macchie quindi è una maschera che illumina istantaneamente in 10 minuti stop il suo tempo di utilizzo è quello andate a massaggiare e sciacquate considerate che la linea di buckle è tutta una linea antietà quindi in un prodotto che nasce anche per l'esfoliazione avere un prodotto anche antietà vi dà un plus in più poi per buckle che non concepisce l'esfoliante meccanico questo funge da esfoliante e da maschera e nasce sia perché ha una pelle un po' keratinizzata un po' spessa una maschera che ha bisogno di una pelle che ha bisogno di essere illuminata attraverso una maschera di esfoliazione ma anche una pelle asciutta un po' sfittica un po' spenta che ha bisogno di essere rinnovata nel suo turnover cellulare ed è veramente l'ottimum un altro brand ragazzi io amo stradoro che chi mi segue sa ed è lbf è la radiant di veli on mask una maschera che si toglie con un pannetto ed è una maschera che quando voi andate ad applicare è una maschera bianca che addirittura sembra un po' che si vada a solidificare ma non si solidifica assolutamente ma si compatta sul viso una maschera di della linea schiarente della linea leading white e nasce sia per le discromie sia per una perdita proprio di pelle un po' spenta una pelle che ha bisogno di essere rinnovata e nasce proprio per dare una sferzata di estrema luminosità compattezza una pelle che ha bisogno di essere proprio rinnovata e l'idea sua è di essere ringiovanita la luminosità è data soprattutto da questo e molte volte le pelli che hanno delle tipologie un po' di macchie un po' diffuse o discromie quello che mi vanno a richiedere è di donare la luminosità perché le macchie ragazze più delle rughe più del rilassamento sembra che la pelle è spenta stanca e affaticata e quindi queste maschere vi illuminano e io direi una cosa che tutte quelle che adesso vi sto mostrando a parer mio e come mio consiglio non dovrebbero mai mancare che poi voi facciate una maschera più antirughe piuttosto che una maschera rassodante quella è un'altra cosa ma sicuramente nel vostro diciamo proprio nella vostra cura e nella vostra skin care queste non dovrebbero almeno una per non dovrebbe mai mancare l'ultima che sapete essere una altrettanto delle mie preferite me l'ha regalata Sara ciao tesoro ma noi stiamo facendo il video insieme e la maschera oxygen glow filorghe è un brand che mi piace non mi dilungo è una maschera rosata con delle cangianze all'interno che si asciuga e quando voi l'andate a sciacquare vi illumina vi rende il perfetto minimizzato nei segni di espressione quindi anche la piccola disidratazione ma allo stesso tempo anche i pori vi schiarisce perfettamente l'incarnato e io amo questa maschera voglio passare all'una delle alle ultime due categorie che sono le maschere chiamate cosiddette diciamo di cura non che queste non lo siano ma che possono essere utilizzate come sleepy mask io non amo proprio la sleepy mask pur facendole adesso ve le mostro ma sono maschere che nascono per la velocità per chi non vuole usare la maschera tenerla in pose poi toglierla e poi dopo applicare la crema e quindi fungono dall'uno e dall'altro allora la prima che io letteralmente amo è le lift di Chanel una maschera in gel che ha gli stessi componenti della linea le lift 97 principi attivi naturali va a rigenerare dona un effetto proprio di distensione un effetto di compattezza la vedrete anche nei miei preferiti perché io la sto letteralmente amando è un gel di una freschezza immensa vi distende i tratti vi dona una compattezza nasce per l'ovale del viso ed è un prodotto altamente rassodante nascerebbe per un profilo di pelle mista per un profilo di pelle che ha bisogno di dare più compattezza all'ovale del viso non proprio come nutrimento però in un periodo di caldo veramente è l'optimum l'altra maschera che io mi sono innamorata e non è perché voglio citare sempre i brand che opero ragazzi queste fanno le differenze ed è questa della linea di buckle questa è la nuova nutrient share fa parte della linea nutri filler di nutrimento una maschera che a si posare occhi palpebre viso labbra per la mucosa collo e decoltè non solo sostituisce una crema da notte quindi voi la applicate come crema e andate a dormire ma la tenete in posa 10 minuti un quarto d'ora e la sportate io credo che insieme all'altra maschera che adesso vi vado a mostrare sono le uniche due maschere che io veramente ho sentito la pelle rimpolpata nutrita ridensificata e che dopo non ho avuto l'esigenza e il bisogno di applicare la mia crema da notte è stata una manna dal cielo in questo momento che la pelle purtroppo è un po' sfittica mi tira il viso con la mascherina e mi si asciuga questo è un tocca sano come l'altra della linea di Sensai la Extra Intensive Mask una maschera che contiene carnettina e fa parte della linea Extra Intensive di rigenerazione cellulare una linea intensiva perché agisce sul turnover cellulare quando la cellula si depaupera da quelli che sono proprio la sua attività cellulare energia, rassodamento, luminosità, ricompattezza questa linea è una crema, in questo caso una maschera crema che potete usare un impacco di 10 minuti e un quarto d'ora asportate o come crema da notte e nasce sicuramente per una pelle che ha bisogno di un nutrimento maggiore e un po' più asciutta ed è una maschera che dona turgore e segni di espressione e dona un estremo nutrimento le altre due maschere di cui l'ultima e che differenza c'è sempre della linea di Sensai rispetto all'altra è che è una maschera di idratazione a base di acido ialuronico una maschera che dona immediatamente turgore, freschezza, luminosità è una maschera che si può usare dopo il mare è una maschera che voi sentite la pelle rigenerata, compattata ed è un'antietà nasce sia per una pelle più asciutta che per una pelle mista cosa che invece la linea blu è per chi si vuole concedere è una signora maschera, è un signor trattamento nei cambi di stagione veramente il top delle maschere mentre questa invece si asporta dopo dieci minuti e un quarto d'ora vedete io con questa devo applicare la mia crema da notte cosa che con l'altra invece no perché è una punta un po' più gelée e concludo con l'ultima ma non per importanza perché è ormai diventata una delle mie preferite non mi voglio dilungare e purtroppo non è che ne voglia parlare sempre ma ragazze voi una volta nella vita dovete provare Buckel questa è la maschera ristrutturante una maschera che compatta le fibre cellulari di collagene dell'elastina ristruttura il turnover cellulare velocizza proprio quello che è la nostra perdita tra tono, compattezza, luminosità è una maschera che contiene dell'alginato che viene miscelato nel suo vasetto io l'ho fatta vedere più volte ovviamente su Instagram ma nell'applicazione con la sua acqua floreale vengono miscelate insieme poi si gira ovviamente nel suo vasetto ed è una maschera che diventa una pappetta che applicato per tutto il viso diventa dopo un po' più spessa si toglie come un velo e vi lascia la pelle che è un sogno schiarita, levigata è una maschera antirughe, una maschera rigenerante che non prescinde nulla di quelle che io fino ad ora vi ho mostrato ed è una maschera che viene fatta pensate una volta in circa 10-12 giorni ma la bontà di questa maschera dura nel tempo quindi è una maschera che ne escono 3 dalla sua confezione pensate dura un mese ma potete poi stopparla e ripetela è una maschera che non deve mai mancare né nel trattamento antietà né nel trattamento di pulizia né nel trattamento di luminosità perché è una maschera antirughe rigenerante, ricompattante delle fibre muscolari quindi di collagene ed elastina e io letteralmente la amo la consiglio ed è una maschera che fa la differenza quando voi la applicate e con questo concludo tutto il panorama delle maschine di quelle che io in questo periodo ho in utilizzo che vi consiglio assolutamente perché fanno la differenza ma adesso sono curiosa di sapere quali sono le vostre quali come sempre mi consigliate perché io amo sperimentare, trovare e poi comunque metterle all'opera io vi ringrazio di essere state in mia compagnia di avermi seguito fino ad ora vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'aveste già fatto e soprattutto di attivare le notifiche per non perdere i prossimi video che andrò a caricare detto questo ringrazio ancora Sara per questa meravigliosa e sprendita collaborazione dedicata alla skin care ma noi ci vedremo prossimamente con un nuovo video e prossimamente anche con Sara vi mando un bacio grande ciao 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 ciao